buongiorno a tutti ben ritrovati qui su radio rossonera e mattino milan di giovedì giovedì 8 giugno del 2023 buongiorno a tutti buongiorno Enrico Boiani ciao Henry buongiorno buongiorno a tutti grazie per ieri siete stati veramente un sacco a vederci avete messo un sacco di like quindi ve lo richiedo già oggi al minuto anzi al secondo 30 mettetelo sulla fiducia magari va bene anche fare così noi oggi parliamo di un paio di interviste di Franco Baresi e del presidente Scaroni soprattutto quella del presidente Scaroni perché quella di Franco Baresi è un po' più light diciamo quella di Scaroni tocca qualche tema un po' più importante da poter sviscerare un po' di più poi parleremo di primi nomi di mercato che stanno iniziando a girare e inizierei subito anche perché visto quanto abbiamo da fare è giusto andare via veloci allora partirei subito con Scaroni questa è la prima è l'intervista diciamo di oggi cioè Corriere della Sera a Milano a Maldini dico grazie ma il Milan gioca di squadra sul mercato siamo ambiziosi uniamo il passato alle innovazioni Ibra se ha delle idee puntini 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 allora i temi dell'intervista sono tre o quattro partirei riassumendone un paio così le li raccontiamo un po' spiega il perché ad esempio Paolo non ci sia più al Milan questa più o meno la spiegazione in questa organizzazione abbiamo avuto l'impressione che Paolo si sentisse a disagio e quando si è a disagio è meglio separarsi le faccio un esempio che riguarda me stesso mi sono molto dedicato al tema stadio tanto che c'era chi mi chiamava stadioni e non Scaroni vero ma l'ho fatto soprattutto negli anni di Elliot quando è arrivato a Redbird che esperti che hanno costruito stadio in tutto il mondo mi è venuto naturale mettermi nel team e perdere quel ruolo autonomo è un po quello che doveva succedere per l'area tecnica ne prendo atto quindi stiamo dando per assodato che i diciamo quello che è accaduto nella parte tecnica ha coinvolto secondo quello che dice Scaroni e ha portato a persone estremamente più competenti di Maldini più pronte di Maldini anni ecco allora che senso avuto fare tutto il resto non lo so vabbè andiamo avanti ma io capisco che la condivisione sarebbe stata anche la cosa migliore cioè c'è qualcuno che fa il lavoro sporco dietro le quinte poi c'è chi decide era la cosa forse migliore e a nessuno dei due forse piaceva né essere solo soltanto quello che faceva il lavoro sporco né essere un mero esecutore di diciamo così l'indicazione di altri però qui la questione è diversa qui Scaroni dice mi sono messo da parte quando sono arrivati esperti mega esperti della di chi ha costruito l'esempio non regge molto ma diciamo perdere è però è quello che è questo l'esempio che è stato detto è se non l'ho inventato io non ne sto discutendo io perché me lo invento i tifosi si chiedono quanto impegno ci sarà sul mercato il famoso budget intanto ricordo che in quattro non abbiamo investito più degli altri qualcuno dirà non sempre bene ma i nostri azionisti ci hanno consentito di rifare una squadra forte credo che dovremo fare qualche cessione e concludere qualche acquisto importante siamo ambiziosi ora le parole lasciano l'interpretazione con uno vuol fare della vicenda ovvero le cessioni sapevamo già che dovevamo farle sono i rebici e gli orighi messias i ballotture perché vuole andare a giocare e compagnia cantante ora da queste cessioni per me ricavi poco se vuoi aumentare il budget per fare gli investimenti per comprare quindi non so che cosa si riferisca al presidente se si riferisca a un giocatore già più di medio peso oppure si riferisca a un giocatore che magari non ha reso quest'anno tipo un belga oppure qualcuno che ha già scritto plus valenza sulla fronte tipo un altro belga che non è orighi non è de chitelare che non è nemmeno vranx ma è salmacher non lo so queste sono le cessioni se no si va a toccare i big big poi eh non non lo so è difficile da da interpretare cioè vuol dire tutto vuol dire niente potrebbe essere dobbiamo sfoltire la rosa potrebbe essere dobbiamo andare a intoccare qualcuno magari che è anche a metà tra gli investimenti magari non andati benissimo le plus valenze o dobbiamo perdere un pezzo grosso cioè questa frase vuol dire tutto non vuol dire niente senza contesto mercato gestito da chi sarà nelle mani di un team che integra competenze diverse con la d furlani che ha anche l'area sportiva da coordinare insieme a professionisti come joffrey moncada e l'allenatore pioli ci aspettiamo che dica la sua in queste scelte oltre all'esperto internazionale di redbird io posso fare una domanda a te a tutti poi qualcuno ovviamente non sarà d'accordo lo scriva nei commenti oppure non lo so ma mister stefano pioli negli ultimi 12 mesi cosa avrebbe fatto per meritarsi tutto ciò oltre a confermare uno staff medico che ancora una volta ci ha trasformato una stagione in 4 5 mesi di calvario oltre a aver depauperato tatticamente la squadra oltre a aver fatto un gennaio raccapricciante oltre a aver fatto una ricaduta a marzo oltre a aver perso una valangata di punti in casa con le piccole e aver dato un gioco alla squadra di catapulte cosa avrebbe fatto mister stefano pioli per meritarsi tutto ciò per quanto meno ne essere messo in discussione e invece addirittura gli diamo le chiavi anche del mercato io non ho spiegazioni tutto questo direttore io ho le mie spiegazioni ho le mie dietrologie che tengo naturalmente per me perché sono molto cattive e sono supposizioni quindi non ha neanche troppo senso spiegarle qui e dirle qui sono semplicemente i miei pensieri e sono molto cattivi molto brutti molto meschini quindi evito di dirli perché chi se ne frega non sono non sono fatti che dire cosa ha fatto non lo so io pioli l'avrei mandato via gennaio forse non solo io ti direi e quindi non saprei dirti il motivo preciso forse si vuole mantenere un po' di continuità almeno per quanto riguarda la guida tecnica non lo so forse si è pensato che nello scorso mercato pioli non essendo quasi intervenuto abbia recato questo un danno alla squadra e quindi che debba essere più presente per far meglio non lo so non so darmi una spiegazione logica riesco solo a costruirmi dietrologie e brutti retropensieri quindi sorvolerei anche perché il pensiero che io ho su pioli lo sapete già tutti da mesi e mesi e mesi quindi inutile che sto a ripetere sorvolerei anch'io in tutto questo sorvoliamo alti perché le cose non so mi risultano un po' difficili da comprendere magari sono io che non ci arrivo con probabilità sarò io che non ci arrivo lasciamo un attimo da parte Scaroni che poi dice che in questo momento non è dato da non è priorità l'inserimento di una figura di campo perché giustamente non siamo una squadra di calcio andrei avanti pioli trasforma il milan centrocampo e attacco quattro acquisti fari su sar e baldanzi il tecnico ha individuato le aree di intervento in mezzo sull'esterno destro fra tre quarti aria resiste loftus chic sale pulisic come ha detto ieri Gianluca di marzio pulisic piace ma pulisic prende 5 milioni 5 milioni già prende oltretutto dovresti dargli qualcosa in più penso se per il trasferimento che non ha 37 anni che va a scalare prende già 5 ma va bene questi sono gli obiettivi ti devo commentare il mercato in questo momento Simo per me ancora qualche giorno sarà ed è di transizione poi vediamo poi si accenderà Sarra è un buon nome alla fine dei conti nonostante in questa stagione sia piuttosto scomparso perché il Watford non ha giocato in Serie A cioè in Premier nella Serie A inglese ma ha giocato nella Premiership e quindi non è neanche più il SAR di due o tre stagioni fa se vogliamo dircela tutta ecco quindi non lo so Kamad e loftusic resistono però cioè non è che ti avanzano troppi soldi non so come dirglielo basta vendere ah già giusto è vero è vero è vero è vero le spine del diavolo origi e ribici costosi fuori dal progetto di chitelare ad lì via con i soldi giusti 4 casi da risolvere divo che il croato piacciono in Turchia per cedere Charles serve una proposta da almeno 28 milioni cioè esattamente la cifra che serve per non andare in minus valenza cioè sono i 35 circa quello che sono meno i 7 di ammortamento annuale ora origi e ribici penso che sarebbe anzi senza penso sarebbero partiti in ogni caso perché non piacevano più a nessuno né per atteggiamento né per quello che hanno fatto quest'anno e quindi sarebbero comunque partiti de chitelare ad lì de chitelare non sarebbe mai partito con la presenza dei due dirigenti senza io gli do la possibilità che possa partire di chitelare sì di chitelare sì insieme anche ad ad lì se arrivano se arrivano i soldi giusti possono partire sono 28 più ne servono almeno 5-6 per ad lì è un peccato cioè capisco che effettivamente se ti arrivano le offerte giuste in modo che non fai che non fai meno svalenza capisco che possa essere come dire da considerare la cosa è un peccato perché ad lì non l'hai mai visto cioè ad lì non l'hai mai visto l'hai visto nel precampionato nel precampionato e in quelle 3 o 4 apparizioni in cui non ha fatto manco troppo male io l'ho visto molto male a Verona ma per il resto quando è entrato con la Fiorentina e quando è entrato con lo Spezia ha fatto anche qualcosina e de chitelare che è il vero oggetto annoso di questa stagione per Pioli su cui io tengo un pochino di riserva per come sono andate le cose per come è finita la stagione sotto tutti i punti di vista io mi tengo il beneficio del dubbio su sto ragazzo sempre in relazione a quei brutti pensieri che facevo prima però sì cioè ci sta sono giocatori del Milan che non hanno reso e probabilmente non piacciono all'allenatore che avrà pure più poteri sul mercato e quindi se ti servono soldi per altri acquisti pensi anche a cederlo ci mancherebbe altro io andrei avanti a proposito di quello che è successo nelle ultime ore ieri Gianluca Di Marzio ha rilanciato ancora il nome di Indica che però sarebbe già molto molto vicino alla firma con la Roma Milan ha provato a vedere se sarebbe la possibilità di inserirsi in questa trattativa Indica a zero arriverebbe quindi a parametro alla prossima società quello che ti posso dire e con abbastanza certezza è che piaceva già dall'anno scorso già da parecchio tempo alla parte scout e che invece era stato un po' bloccato dalla parte diciamo così della dirigenza che non era molto convinta del giocatore ora probabilmente hanno riprovato a fare un tentativo sì dovremmo andare a recuperare tutte le trasmissioni dell'anno scorso in cui dicevamo eh questo giocatore piace alla parte scout probabilmente recuperando quei nomi lì sappiamo chi andranno a prendere quest'anno si saranno disponibili certo scherzi scherzi a parte però sì non so cosa ce ne facciamo di un difensore a zero cioè per carità Indica un buon difensore a zero diventa un'occasione ghiottissima ma io non so come dirvelo la difesa è l'ultima roba che devi toccare l'ultima partire da un difensore mi sembra un po' folle però l'importante è che facciano tutto io avevo detto che sarei stato cattivo in quest'estate col mercato ho perso un po' di energie devo essere onesto nel senso che da cattivo mi sono intristito però c'è un mercato da commentare c'è un mercato da giudicare c'è un mercato di cui parlare c'è un mercato su cui dare notizie quindi ci proviamo con la speranza che l'attaccante lo comprino i centrocampisti li comprino l'esterno destro lo comprino poi viene tutto il resto esatto poi il giudizio come al solito arriva alla fine però siamo un po' nelle onde ecco tutto qua prima di chiudere se qualcuno è arrivato fino al minuto 15 un piccolo appello a Urbi e Torbi ne stanno uscendo veramente di ogni in queste ore veramente tante e troppe soprattutto sul conto dei due ex dirigenti del Milan troppe l'invito è quello di farsi scivolare di non abboccare a qualsiasi tentativo di fango gestato verso i due ex dirigenti perché ce ne sono alcune che sono anche veramente ignobili come l'accusa Massal di sobillare i giocatori nel tentativo di ribellione uno che ha lavorato anche il primo di gennaio facendosi aprire casa Milan apposta per lavorare è una cosa ignobile far uscire sta roba ignobile e che sarebbe anche compito di chi la fa uscire dire no non la faccio uscire come non va bene onestamente per raccontare dove caspita va Paolo Maldino una volta che è stato licenziato perché a noi cosa ce ne frega più solo soltanto per dire ah guarda è già andato al mare come tante altre cose che stanno uscendo in queste ore lasciatevele scivolare addosso non infangatevi anche voi con quello che si sta cercando di fare grazie io non commento onestamente non commento tutte le cose che escono anche perché noi siamo in una posizione in cui sappiamo bene certi meccanismi e quindi sappiamo come affrontarli vi possiamo dire di quello che ha appena detto Simo aggiungo una piccola cosa pura purissimamente opinione personale qua non c'entra niente come dire non ci sono notizie non c'è niente quello che è successo ieri ancora più forse di quello che è successo con Maldini perché tu con Maldini avevi un certo tipo di frizione quello che è successo ieri per Ricky Massari per me è vergognoso vergognoso un comunicato che chiamarlo comunicato è un complimento perché erano quattro righe quattro righe per una persona un lavoratore un professionista di quel tipo è stato vergognoso io non ho altri termini da aggiungere e aggiungo in tutto ciò in tutto ciò la comunicazione dei due di l'hai data sul tuo sito internet giusto? l'hai data è questione complicata nel resto nel resto del tuo ecosistema non è che la puoi nascondere perché quella cosa lì è accaduta e l'hai scritta no l'ho fatta più che altro ma vabbè Mary grazie ciao 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 mi raccomando like commento sotto ditici la vostra su tutta questa faccenda mi raccomando lasciate il mi piace perché ci aiuta iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto attivate la campanella per tutte le notifiche ciao a tutti ci ritroviamo alle 11 con Chiamamilan 13 lanci eh devo volare 19 filo rosso nero ciao